Ciao amici, come va nelle vostre case? Tutto bene? Alla grande immagino, come la mia, certo, certo. Cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, pieno di vino, birra, acqua, fa lo stesso ma sempre mezzo pieno, positivi. La qualità dell'aria. Avete notato in questi giorni che aria leggera si respira? C'è voluto un virus per abbassare il livello delle polveri sottili in tutto il mondo. Beh, avrei preferito un altro mezzo per arrivare a questo fine, però ben venga, io come Anima Green sono comunque molto contento di questo risultato. Per carità, non si può uscire di casa, dunque ai fortunati che hanno un balcone possono uscire e respirare, oppure quando si va a fare la spesa, perché ancora si può andare a fare la spesa, uno se la gode insomma, per ora godiamo di questo, meno male, poi tanto ci rimetteremo poco a raggiungere i livelli precedenti. Per ora godiamo di questa piccola soddisfazione, questo piccolo grande risultato ottenuto. E poi, ragazzi, che dire? Abbiamo di questi tempi la mascherina. Ah, un altro elemento inseparabile, la mascherina. Beh, ad esempio in questo caso, vedete, con questa barbetta un po' bianca che fa un po' auge, mettendo la mascherina invece, con questi semplici movimenti, voilà, uno acquista a minimo cinque anni di giovinezza. Oh, che figata! Dai ragazzi, teniamo duro, vai, ce la faremo. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, ciao. Mascherina di merda, va a fangulo.